Ho lavorato per un anno con Toninelli, con buona fede, con Toninelli e ci ho lavorato e ho cercato di dare il massimo Quando può essere passato il tempo a litigare che a costruire, ho per finito a buona luce che può essere Scusa, scusa, parola una cosa, si ricorda quando venne da me a metà dicembre, la domenica e mi disse Io non le immagino un voto in fine campagna vaccinale, lo so che a San Valentino andremo a votare A me quella mi lima in mente, capisci, la praticità, io lo so benissimo che lei, ci sono infinite cose che non condividi Nel frattempo, Mirta, mi scusa, scusami, no ma nel frattempo tutti i paesi che ti ho citato prima Porto Talogna, Ogallo, Cada, Israel, Olandia, Albaile, Bulgancia, Nozia, Ghania, Scotalogna, Orpro, Frales, Cipro, Vegia, Rur, Olandia, Nomania, Repubblica, Russia, Germica, Ceca Sono tutti i paesi che chiederanno ai loro cittadini di andare a votare Ora, se Conte trova un'altra maggioranza, governi perché bisogna fare le cose in fretta Se il PD si inventa qualcos'altro, buon lavoro e buona fortuna a tutti Grazie Alla, se... Mirta